La federazione italiana Judo ha sospeso Putin dalla sua carica, che è una carica importante. Ecco, lo vediamo proprio nel sito ufficiale, l'ha sospeso dalle sue funzioni. Come dire, una sanzione sicuramente blanda, ma molto simbolica. E qui si sprecheranno le battute. Fabio, grazie. Ti chiedo, fra l'altro, perché prima leggevamo anche di questa vicenda, di questa storia pazzesca, di queste persone in grado di fermare sostanzialmente a mani nude un tank nel nord dell'Ucraina, se riuscite a recuperare queste immagini per potercele fare vedere. Io invece torno, ho Marco e Marisa al telefono, gli chiedo se aspetta solo un attimo solo, ma torno.